Senon È arrivato il giorno Fate coraggio Ahahahah Non preoccuparti vincerò io Farò capire a Shikarnage Che non ho colpa di niente Forza andiamo Ok Shikarnage, quindi se dovesse vincere Venom tu ascolterai quello che è da dire, giusto? Sì, lo farò! Ok, allora iniziate! Ce la puoi fare! Non mi fai niente! Coraggio! Vieni qua! Dai, guarda qui! Dai, su! Ehi! Che diavolo sta succedendo? Ah, papà! Carnage! Sceglietelo! Sceglietelo! Solo se accetterei ad ascoltarmi, anche se non ho vinto! Sì, sì, lo farò! Sceglietelo! Bravo Venom! No, no, non capisci! Quello che voglio dire è che noi non siamo umani! Non dobbiamo preoccuparci di queste cose! Noi siamo i simbionti e possiamo avere più donne e uomini al nostro fianco! Beh, non ha tutti i torti! Sì, poi... Io non sono neppure l'unico ad avere più relazioni! Antiveno va tipo altre cinque donne oltre sciantiveno! Cosa? Che diavolo stai dicendo? Hoops! Grazie a tutti